Alessandro Bagnale, portiere dell'Odace Cerignola, lo dicevamo anche in compagnia delle Grini, momento positivo per voi, sono state importanti anche le tue parate domenica scorsa? Sì, sicuramente questo è un momento abbastanza positivo, veniamo da tre vittorie consecutive e dobbiamo cercare di rimanere sempre su questa strada. C'è la giusta autostima per assaltare la vetta, questi tre risultati consecutivi e naturalmente l'ultimo, quello di Sorrento, che hanno portati sicuramente a prendere ancora più consapevolezza dei vostri mezzi? Certo, sicuramente queste tre vittorie sono state fondamentali per aiutarci ad avere ancora più autostima e anche il risultato del Picerno, che ci ha permesso di accorciare di quattro punti, sicuramente ci danno molto morale. Domenica, altra battaglia qui al Monterisi, arriva il Bitonto, ci sarà da rimediare a quella che è stata una delle più brutte parentesi del girone d'andata? Certo, sicuramente è stata una ferita molto profonda quella del girone d'andata e faremo di tutto per rifarci domenica.